Tappa a Saluzzo in provincia di Cuneo da sabato 31 marzo per la mostra Il fascino borghese della fotografia, politica, costume e società dall'archivio fotografico del Borghese, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte. L'allestimento curato da Dario Reteuna con la collaborazione di Elisa Paola Lombardo propone una ricchissima panoramica su politica, costume e società, estrapolata dall'archivio fotografico dei Il Borghese che annovera circa 37.000 scatti, un viaggio a ritroso dell'Italia che fu dalla ricostruzione dell'immediato dopoguerra al periodo buio degli anni di piombo. La mostra, allestita nel Museo Civico Casa Cavassa in via San Giovanni V, viene aperta al pubblico fino a domenica 29 aprile. Per informazioni 0175 41455. Grazie per la visione!